continuo perché io ce la faccio e tu no e mi agiti a la 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 E' anche il mio centro è arrivato di oggi. Vaffanculo! Non ho potuto neanche guardarla perché sennò non la sentavi. Perché veramente non mi stavi guardando? Non ti stavo guardando, avevo l'occhio giù così. C'è il video dove io sono lì così e tu senti. Si può? Grazie! Grazie! Grazie!